Questa piccola falena diurna è un lepidottero della famiglia Tiridide. Si trova in Europa centrale e meridionale. La tiris fenestrella non è molto appariscente, cosa dovuta anche all'apertura alare che è di solo 15-20 mm. Le ali sono nerastre, con piccole ma riconoscibili macchie arancione, ed una macchia rotonda e traslucida e biancastra nella zona mediana dell'ala anteriore. Due altri punti chiari vicini tra loro sono visibili sotto l'ala posteriore. Queste falene hanno due generazioni all'anno e svernano come crisalidi, le quali hanno un colore marrone e rossastro. Particolarmente attiva nelle giornate di sole, è l'unica rappresentante della famiglia delle Tiridide in tutta l'Europa. Gli adulti sfarfallano da maggio fino a metà agosto. Frequentano ambienti rivieraschi e gole di zone calcare. Le larve, visibili nei mesi di luglio-agosto, possono raggiungere la lunghezza di 10 mm. Sono di colore giallastro o verde oliva, con una pelle leggermente trasparente e numerosi punti neri di grandi dimensioni, e hanno la testa marrone scuro. Essi si nutrono di Clematis vitalba, Sambucus nigra e Arctium lappa. Non dimenticate di mettere il mi piace ed iscrivervi al canale. Sambucus nigra e Arctium lappa Sambucus nigra e Arctium lappa